Il recupero tra Messina e Palazzolo ha reso la Pasqua giallorossa un po' più normale. Si parla ovviamente di ritmi lavorativi perché la squadra di Modica, che la scorsa settimana ha archiviato il 2-1 interno contro l'Ercolanese allenandosi fino a sabato mattina, ha organizzato nel pomeriggio di oggi la ripresa della preparazione del match contro i gialloverdi, in programma invece fra 48 ore. Un recupero che in caso di vittoria Messinese servirà a portare un po' più in alto la formazione biancoscudata, in cerca del secondo successo consecutivo per aprire le porte a un finale di stagione sulla carta agevole e nel quale conquistare risultati positivi per onorare al meglio il campionato. I play-off sono lontani, è vero, ma non per questo Modica accetterà cali di tensione e così diventa cruciale anche il recupero degli infortunati, Meo e Cocuzza su tutti. Comprisco squalificato è il rientro del giovane portiere classe 2000 forse il più atteso, sebbene Rinaldi, scivolato al terzo posto nelle gerarchie e tornato titolare contro l'Ercolanese, non abbia dimostrato particolari carenze, subendo gol soltanto su calcio di rigore nel finale. Ricomincia così la settimana per il Messina con altre due gare in quattro giorni, compresa la trasferta di domenica contro l'Ebolitana. Dopodiché torneranno finalmente ritmi regolari, quelli che i giallorossi ormai mancano da un paio di mesi.